Dopo l'apertura della porta santa della cattedrale Santa Maria di Frosinone, del carcere e dell'ospedale, la quarta porta aperta è stata quella della mensa diocesana del capoluogo Ciociaro. Quindi anche questa struttura rientra tra quelle che danno la possibilità di ricevere l'indulgenza dai propri peccati come voluto da Papa Francesco. Qui la Caritas ogni giorno aiuta circa 5.000 persone fornendo ai nuovi poveri servizio mensa e pasti. Nuovi poveri perché la crisi ha fatto registrare sempre più italiani che hanno bisogno di aiuto e da Frosinone sono tanti i volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo alle persone meno fortunate. Poi seguendo anche l'esempio di Papa Francesco ho voluto aprire anch'io la porta santa della mensa perché davvero quando noi incontriamo le persone che hanno bisogno e che qui vengono noi incontriamo Gesù e incontriamo la sua misericordia. A loro il Vescovo di Frosinone Monsignor Ambrogio Spriafico ha voluto portare una parola di conforto la misericordia, l'aiuto ed un piccolo gesto che possono riempire il cuore di chi soffre soprattutto in questi giorni di festa. Qui noi tutti dobbiamo imparare a capire che c'è tanta gente che soffre che noi siamo chiamati ad accoglierla e ad accoglierla con lo sguardo benevolo lo sguardo misericordioso che Gesù ha avuto durante tutta la sua vita terrena e che oggi ce lo dona guardandoci dal cielo. Auguro a tutti di poter sperimentare la gioia della misericordia incontrando la vita di chi soffre e di chi è più povero di noi.